L'Enea è l'ente nazionale per le energie alternative. Dal pomeriggio, ma la notizia verrà diffusa soltanto nelle prossime ore, è il partner scientifico del Consorzio Industriale per lo sviluppo del Lazio Meridionale Cosilam di Cassino. Insieme all'Università di Cassino seguirà la sperimentazione della Green Valley, la grande vallata tra Rocca Secca e San Giovanni in carico, nella quale si punta a realizzare una piantagione di canapa industriale, con due obiettivi. Il primo, bonificare da anni di veleni quei terreni. Il secondo, trasformare la canapa in materiale per imballaggi ecologici da usare al posto della plastica. Tutti pensavano che fosse una balla e invece ora c'è la firma. Se va tutto bene, entro un anno o due ci sarà anche la fabbrica con i posti di lavoro e ci sarà pure un ambiente più pulito. È il segnale che l'industria di questo territorio sta cambiando. Non siamo più soltanto degli operai che montano le cose progettate da un'altra parte. Sviluppiamo cose nostre, come i sanpietrini in ceramica. Nessuno credeva che potessero salvare circa 200 posti di lavoro in una fabbrica al collasso. Questo è ciò che accade quando si crede nei sogni, anche se sono sogni industriali, e li si insegue, evitando di fare polemiche, spesso sciocche, pur di apparire e di darsi un ruolo. Sta cambiando il modo di fare industria. Se sapremo stare al passo, continueremo come questa volta ad arrivare primi e ad avere posti di lavoro. Se perderemo tempo a creare problemi, gli altri ancora una volta ringrazieranno e faranno le cose al posto nostro. La scelta sta a noi, senza ricevuta di ritorno. Grazie. Grazie.